Va bene, sono pezzato perché dovevo fare il video stamattina quando qua eri in ombra e non faceva questo caldo luciferino. Nella puntata precedente abbiamo visto GoPro 9 vs Insta360 One RS, tutte le risoluzioni e le ampiezze di quadro, e abbiamo cercato di capire qual era migliore, e il risultato era abbastanza chiaro. Vorrei avere un risultato altrettanto chiaro su quale smorsa meglio le vibrazioni, perché se sentite, praticamente chiunque vi dirà di sicuro la GoPro 9 è la migliore per le vibrazioni. Andiamolo a vedere. E teniamo presente che, mentre di solito si vedono un sacco di test dove la gente corre e lo tiene in mano, ma il mio punto è che non corri mai in maniera scientifica con la stessa vibrazione. Quindi magari dopo eri più stanco, eri un po' più lento, hai cambiato braccio, l'hai dato a un tuo amico, vedi due video diversi con due persone diverse, è un casino. Questa macchina qua invece, questo è un vibratore che si muove sempre alla stessa velocità, quindi io lo farò andare a varie velocità, da 1 a 5, ok? E a quel punto, quando vibra con questo o con questa, sarà esattamente lo stesso momento, cioè la stessa vibrazione, e potremo testarla in maniera scientifica. Vediamo qual è la migliore. E la Garmin VIRB Ultra 30 ha i sensori incorporati, ci permette di registrare un sacco di dati di telemetria da poi buttare sopra con il suo software facilmente senza comprare altri software, altezza, latitudine, longitudine, posizione, mappa, percorso, eccetera, ma non interessano i dati di accelerazione G che abbiamo sia a destra-sinistra, laterale, sia in verticale. E vediamo che quando arriviamo verso il 5, arriviamo verso il 5, abbiamo una discreta accelerazione, cioè praticamente è quasi un G sia da una parte che dall'altra. E infatti si vede abbastanza bene qua, cioè la camera viene, come si dice milanese, è sgigottata parecchio, ok? Vediamo quindi come si sono comportate le camere. Ma partiamo con un distinguo. GoPro più facile nella scelta degli angoli, perché ce ne propone 4, da Superview Wide a Linea a Nero, mentre la Insta 3 Sizi ha un approccio del tutto differente, cioè lei ci permette di cambiare da 17-50 mm continuamente il quadro, cioè l'angolo di visualizzazione. L'angolo equivalente, guardate il video precedente in cui confronto tutti gli angoli di visualizzazione fra GoPro e Insta e guardo le qualità se sono buone. Però, per arrivare a dire che non abbiamo comunque rispetto al Superview un equivalente nella Insta 3 Sizi, il Superview è troppo largo, l'Insta non ce la fa neanche con i 6K Wide, mentre il Wide è il 17 mm. Quindi adesso andiamo a confrontare il Wide della GoPro e della Insta, ok? Cominciamo con la GoPro e vediamo quanto riesce a stabilizzare. Adesso faccio una cosa. Vi aggiungo qua a schermo un indicatore fisso, in modo che vi serva da riferimento. Quando voi vedete che non la balaustra, perché ovviamente se la camera è qua e sta muovendosi così, è ovvio che questo si muove, ma quello che è all'orizzonte, tipo nel nostro caso, se state registrando al mare, il mare, in montagna, le montagne, quello è indice che la camera sta stabilizzando bene. Vi vediamo che qua siamo già probabilmente attorno al 3 di velocità, adesso passiamo a 4. Quindi GoPro, anzi facciamo una cosa, 3, ah, 4 inizia a muoversi. Allora facciamo una cosa, vi, mettiamo qua delle note, tanto su quel riquadro lì c'è la stessa immagine che vediamo qua, e quindi non ci si vengono un granché. GoPro 1, 2, 3, perfetto, buono, 4, facciamo fatica, inizia a muoversi, porca vacca. E 5, eh, allora la differenza, mi sembra di poter dire, ma voi scrivetemi nei commenti se ho ragione o no, che al 4, al 4, in realtà il palazzo è stabile, è solo come se l'algoritmo facesse fatica a capire che cosa deve tenere stabile. Infatti c'è una leggera deriva qua, non è che stabilizza male, fa un po' fatica, diciamo che non danno ancora fastidio l'immagine, è come dire, se io mi sto registrando, dove sei? Faccio proprio con la GoPro, mi sto registrando, ciao ragazzi, come va? Questo ondeggiamento lei lo tiene, come se non lo percepisse come vibrazione, invece se proprio corro, sto correndo, questo si lo corregge. Quindi 4, otteniamo questo palazzo che va un po' in giro. Mentre 5, che accelera, aumenta, abbiamo visto quanto vengono sgigottate le camere, è niente, è un disastro. Quindi la GoPro, io direi, questa è modalità wide, wide, io direi 4 quasi, ok, 5 vibra. Ok, andiamo avanti e a questo punto voglio vedere la Insta360, come si comporta. La Insta360 come stabilizzazione c'è due modalità, il flow state in camera oppure post. Flow state post vuol dire che usate Insta360 Studio. Io nell'altro video in cui presentavo la OneR, non RS, dicevo che è uno sbattimento, perché io voglio registrare, torno a casa e mando. In realtà la OneR adesso è stata aggiornata per cui anche lei ha in camera flow state, non è male, è limitata a 50 frame al secondo, però anche, compratela anche usata, io l'ho appena venduta, se no vi direi compratela mia che è usata per tre prove. Però anche la OneR adesso c'è l'in camera. Stiamo vedendo wide, ok, in camera flow state, Insta360 wide, quindi la configurazione è più standard. E vediamo anche lei fino al 2, al 3, mi sembra di poter dire 2. Scusate, la faccio andare a velocità normale. Non ha nessun problema, la linea è un po' storta, ma perdonatemi se sto tutti i cambi scena a regolare la linea, non finiamo più. Andiamo a vedere a 3 che cosa succede. La GoPro andava bene al 3 e anche l'Insta360. Vediamo, al 4, ecco qua, la GoPro iniziava a far fatica. Andava un po' alla deriva. La Insta360 no. Questo è probabilmente il 5, ecco. Oddio, ho visto una roba burribile. Oh mio Dio, cosa ho visto? Ma è una... Avete visto qualcosa sulla destra? Eccolo qua. Che cos'è? È la parte che c'è so... Cos'è? Una parte dell'immagine. Oddio. Però, aspetta, per sicurezza... Allora, voglio vedere il file originale. Ok? Sì, sul file originale c'era questo problema. Ok, andiamo fino alla 5. Ok, no, non mi sembra niente. Però non è ancora 5. Oddio. E c'è. E c'è. Guardalo qua. Cavolino. E c'è. Su questo lato qua si vede bene. Quindi non è un problema di Final Cut. Anche nel video originale registrato da Insta360 c'è questo problema di una parte dell'immagine che viene sovraimpressa sul lato destro. DJI Pocket 2, perché continui a sconnetterti che mi crei dei disequilibri mentali che già ne ho abbastanza? Quindi, io le cose che... Ve lo dico, le cose che non funzionano mi fanno incavolare come una biscia. Quindi DJI Pocket 2, tu come wifi fai schifo, va bene? Sì, è a 20 centimetri dal monito. Però adesso dobbiamo scrivere che Insta360 quindi in camera flow state ok flow state 4 ok e 5 ok ma pixelation ok, chi vince? Secondo voi? E qua ditemi voi cosa preferireste pari e patta forse è meglio la GoPro è meglio che balli piuttosto che ti si vede un pezzo dell'immagine no, a caso a destra va bene ma siccome fa Insta360 e GoPro ci sono anche delle differenze funzionali nel nostro caso la GoPro ha il SuperView che Insta360 non ha quindi questo angolo molto ampio andiamo a vedere come gestisce le vibrazioni il SuperView allora mi aspetto che ovviamente 1, 2, 3, 4 non ci sia nessun tipo di problema vi rimetto l'overlay così vi osteria mi aspetto che non ci sia nessun problema né a 1 né a 2 e balla e balla e balla andiamo a 3 stiamo qua ad aspettare 3 avete visto? sono stabilizzato no, è pazzesco ancora una volta è come se facesse fatica a individuarla come vibrazione quindi il SuperView 4 adesso vediamo il 4 che era il punto critico wow sì sì è quasi ok è uguale e 5 e 5 non ce la fa a me sembra uguale ma per sicurezza vi faccio vedere il confronto fra il SuperView e il Wide Angle normale di GoPro 9 ci troviamo dopo guardatelo fullscreen poi ne parliamo più o meno balla tutto boh io non riesco a vedere grosse differenze quindi scriverei in GoPro ok ci facciamo il SuperView SuperView ok per ora abbiamo GoPro Wide e SuperView uguali adesso voglio vedere l'Insta360 perché il SuperView era un vantaggio della GoPro ok invece l'Active HDR è un vantaggio della Insta360 ok guardate l'altra puntata in cui ho fatto il punto di ronto proprio fra Active HDR di Insta360 e le modalità di colore GoPro ok il profilo colore della GoPro perché l'Active HDR propone dovrebbe proponere delle immagini molto dinamiche da Action Cam ma stabilizza allora 1, 2, 3 mi sembra che non ci sono problemi vediamo 3 era quello che ci interessava no era quasi ok era su 4 4 boh a me sembra ok 4 4 ci interessa si si fa un po' di schifo no è Final Cut nella riproduzione cioè l'immagine della palaustra proprio il pezzo di ferro sottile mentre vibra sembra parte condeggio un po' e ci sta sembra pizzela anche quello ma forse Final Cut ve lo mando fullscreen vediamo il 5 no non ce la fa per niente il 5 non ok quindi quello che noi possiamo scrivere sulla Insta Trifix è che ok 5 fa po' adesso per essere sicuri vi lascio al confronto fullscreen active HDR in camera flow state e dopo ci vediamo per il commento guardatelo con attenzione ok mi sembra di poter dire che fino alla velocità 4 quindi fino a vibrazioni discrete ce la fa dopo cede non ce la fa più quindi active HDR insomma ma vediamo un'altra peculiarità di InstaSys che la GoPro non ho che è l'Instastity Studio che vi permette di stabilizzare in post stabilizza meglio andiamo a vederlo ok e ovviamente in post voi potete scegliere il tipo di immagini che volete ottenere dal largo più largo che è l'FPV poi super wide wide linea e nero e vediamo che cosa cambia andiamo subito alle cose interessanti alla velocità 3 ok ok posso fare 3 regge 4 non regge più quindi post flow state 4 però FPV 4KO ok adesso vediamo invece l'ultra wide il 3 ok il 4 adesso tendo ad andare un po' velocemente pensavo di caricare anche un video poi ci sono tutte queste immagini registrate le vedete con calma senza uno che blattera che sono io quindi se volete studiare e il 4KO anche qua ultra wide io ovviamente il 5 farò schifissimo andiamo a vedere il wide 3 ok 4 niente quelli larghi non ce la fa in state resisti è un po' strana sta roba no? post flow state dovrebbe essere superiore ed è inferiore scandalo boh vabbè a questo punto andiamo a vedere nelle modalità lineare in erro la 3 ce la fa la qua è un po' indecisa è un po' indecisa quasi ce la fa e a questo punto voglio vedere a 5 5? dai adesso ce la devi allora ultra wide wide fpv ultra wide e wide ultra wide e wide ok post flow state fpv ultra wide wide 4KO quindi discreta niente di più andiamo a vedere lineare in erro c'è più spazio per lavorare essendo un sozzo di stabilizzazione come si potrebbe utilizzare su final cut legge tutta l'immagine e algoritmicamente trova quella sezione lì e la stabilizza la mette al centro potendo ridurre l'immagine perché fai l'angolo più stretto ma è una finzione quindi hai preso un'immagine così l'hai fatta diventare grossa così linear 4 quasi linear 5 quasi e a questo punto ne erro c'è un'immagine così ne ricavi una così non ce la fai 3 qua subito al 4 4 ce la fa 5 ce la fa ok mi sembra di poter dire che il nerro sia molto meglio il post flow state 4 e 5 quasi ok 5 ok quindi post flow state linear 4 e 5 quasi ce la fa il nerro invece ce la fa anche il 5 ma per essere sicuri andiamo a vedere l'immagine di confronto guardatela con calma full screen e poi la commentiamo si quindi post flow state se fate un nerro arriva veramente a stabilizzare l'inconcepibile però però anche prima abbiamo segnato che in camera flow state 4 5 cioè il 5 ok la velocità 5 andava già bene Insta360 dove sei? vieni fuori non ti vergognare allora tu già con l'incamera flow state che non ti richiede di prendere l'SD metterla nel computer e passare da Insta360 Studio tu stabilizzavi già bene sul 5 dunque a partire la pixelation e perché io devo far tutto questo giro perché viene meglio vediamolo guardatelo full screen poi ne parliamo il 3 cioè è un risultato veramente assurdo sorprendente praticamente stabilizza meglio in camera flow state che post flow state quindi tutta questa roba dell'Insta360 Studio non mi è come se è incazzato allora a questo punto le confronto molto ad armi pari nel senso senza post stabilizzazione stabilizzazione in post produzione in camera flow state o stabilizzazione hyper smooth vediamo quale è meglio wide e tutti all'inizio tutti quelli con cui parlo dicono la GoPro è superiore guardiamo e quindi con la stabilizzazione in camera non c'è nessuno che vince perché l'Insta360 si stabilizza meglio ma crea una pixelation per cui parte dell'immagine ti vengono aggiunte a casaccio da una parte in basso a destra in alto a sinistra GoPro non riesce a stabilizzare ma quindi cosa è meglio prendere come re sottofirmare è meglio la Insta360 One RS appena uscita questa è la GoPro 9 ma la 10 è molto molto simile guardate anche le prove comparative come stabilizzazione perché come qualità video e scelte di un pezzo di quadro abbiamo visto la puntata precedente come stabilizzazione io suggerisco a chi non vuole menate vuole anche il doppio schermo anteriore fisso che non devi smontare tutto rimontare attaccare per questo è bella che è modulare la nuova gabbia è molto simpatica perché si apre molto velocemente viene fuori smonti però smonti e rimonti qua accendi c'è il doppio schermo frontale poche menate però non ce la fa al 5 al massimo del mio test al 5 questa non ce la fa questa ce la fa male però magari al 4 e mezzo perché quasi il GoPro 4 come velocità era quasi perfetta come stabilizzazione invece questa andava bene questi è un po' filo di lana e la GoPro ha anche il super view che stabilizza tanto quanto wide quasi quindi mi sembra di poter dire che la camera è più facile la Insta360 se volete correre sul filo del rasoio perché stabilizza meglio ma a un certo punto dei numeri e fa la pixelation nel post flow state se scegliete linear veramente arriva a delle performance incredibili quindi se avete secondo me se uno è un creator che vuole sbattersi portare dentro far un linear delle cose più evolute questa potrebbe essere meglio anche perché lì aveva un'immagine così ne tira fuori un franco bollo quindi avete poco ed è uno zoom digitale però per un creator evoluto direi questa che a questo punto se un creator evoluto è un po' il suo mestiere quindi smonta e rimonta per avere lo schermo montato anche come anteriore non è un grosso problema invece per quello occasionale la GoPro che ha il doppio schermo anche frontale ha il super view che è molto ampio e non crea problemi strani cioè magari non stabilizza bene ma non ti trovi della pixelation io vi saluto e vi lascio guardate il motivo per cui faccio questo canale per favore date una mano a crescere che voglio andare dai distributori di elettronica e farci affari dei disconti su queste action chissà se l'anno prossimo riusciremo a farcele tipo non so averle a 250 euro queste due camere se siamo un po' di più di quelli che siamo adesso siamo mille se mi date una mano magari ce la facciamo e penso che terrò tutte e due e farò anche la prova sugli angoli più ampi il 6k e il super view sulla moto per vedere la ripresa più scenografica e questa c'è anche l'Active HDR però adesso finisco perché sto parlando troppo Grazie a tutti